Fondi per giovani agricoltori dalla regione piovono 260 milioni di euro. Va a compimento una misura attesa da anni, ha commentato l'assessore di competenza Edi Bandiera, grazie alla quale favoriamo il ricambio generazionale dell'agricoltura siciliana e contestualmente l'avvio di nuove imprese in aree rurali gestite da giovani. E come di consueto con il sabato l'appuntamento alla rubrica dell'impresa e abbiamo ascoltato il nostro consulente di riferimento Alessio Iovino sull'argomento. Da qualche giorno è stata pubblicata la graduatoria finalmente dei beneficiari di coloro che potranno accedere a un contributo a fondo perduto pari a 40 mila euro per quei ragazzi che per la prima volta si insediano all'interno delle aziende agricole. Soltanto un ragazzo può essere agevolato o possono anche equalizzarsi più giovani? Al massimo tre e ognuno di essi può comunque ottenere questo beneficio, questo contributo di 40 mila euro per un massimo di 120. Il beneficiario dovrà avere determinati requisiti, innanzitutto quello dell'età, essere maggiore, non aver compiuto 41 anni, avere delle competenze specifiche nell'ambito del settore agricolo e dovrà ricoprire all'interno dell'azienda agricola per la prima volta la responsabilità civile, finanziaria dell'azienda e la titolarità della stessa. Questa è una misura che si attendeva da tantissimo, il problema adesso magari è quando arriveranno di fatto questi soldi? Esattamente, già comunque avere la certezza di risultare beneficiario è una cosa che comunque dà la possibilità ai ragazzi già di iniziare a intraprendere questa attività. Poi speriamo che nell'arco di breve la regione possa comunque erogare il contributo. Ad ogni modo quando si parla di giovani e di agricoltura c'è sempre una speranza in più per questa terra. Esattamente, l'obiettivo era proprio quello, quello di creare il ricambio generazionale all'interno di un settore che ha bisogno appunto di rilancio. Bisogna dire anche che comunque per cercare di incentivare questi ragazzi la regione ha messo a disposizione un pacchetto giovani e quindi tutti coloro che rientrano in quella gradatoria potranno richiedere un altro contributo rientrante tra uno di quei tre bandi previsti dal pacchetto giovane che riguardano o l'investimento all'interno dell'azienda agricola quindi investimenti in merito a attrezzature, macchinari e impianti oppure realizzare attività extra agricole, quindi impianti di trasformazione, agriturismi, e-commerce e infine la possibilità anche di accedere a un bando per rimboschimento e forestazione quindi la possibilità che ha il beneficiario è quella di poter richiedere uno solo di questi bandi oltre il contributo di 40.000 euro che ha già ricevuto dal bando del nuovo insediamento. Si parlava di un numero 1625, è penalizzante o no? Assolutamente no, dato che comunque la regione ha messo sul piatto un'ingente somma di 40.000 euro come contributo non è da sottovalutare.